un cordiale saluto buongiorno ben ritrovati a tutti i carissimi telespettatori di fano tv siete sul canale 17 del digitale terrestre 17 il numero giusto per l'informazione a 360 gradi sul canale che si occupa della città di fano perché porta il nome di fano tv naturalmente ma come ormai ben sa chi ci conosce ci occupiamo non solo di fano ma un po di tutto il territorio in particolare della provincia di pese urbino territorio che serviamo oltre al territorio di ancona che però ovviamente per ovvie ragioni insomma serviamo soltanto con il segnale ma di cui ci occupiamo poco ma insomma non si può far tutto nella vita andiamo a vedere il santo del giorno oggi è Santa Pelagio a Martire il sole è sorto alle 7.13 e tramonterà alle 18.38 sono 16 gradi questa mattina è un po' più fresco rispetto agli altri giorni quindi insomma ci stiamo avvicinando alle medie stagionali del periodo vediamo la fotografia che tempo farà per oggi intanto abbiamo queste nuvole che passano veloci verso l'orizzonte in questo caso si tratta del nord visto che nord est visto che la telecamera è puntata da quella parte insomma per quanto ci riguarda poi per oggi avremo cielo inizialmente nuvoloso con nuvole basse in parziale dissolvimento è quello che abbiamo visto poco fa sulla sulla fotografia queste nuvole basse che stanno per dissolversi lo faranno nel corso della seconda parte di questa giornata avremo deboli rovesci sparsi soprattutto nell'entroterra oggi con temperature in lieve aumento quelle massime ma in diminuzione quelle minime ecco perché è un po' più fresco rispetto a ieri ma tenderanno ad aumentare nel corso della giornata per la giornata di domani invece venerdì 9 di ottobre avremo cielo parzialmente nuvoloso con nuvole medio basse con maggiore densamente nelle zone dell'entroterra dove non sono esclusi dei piovaschi invece variabile sulla costa le temperature in lieve diminuzione nei minimi i venti di brezza tese orientale il mare sarà mosso per sabato invece sabato addirittura il sito internet meteogiuliacci.it lo diciamo tanto non è un problema addirittura ipotizzava l'arrivo di un uragano sull'Italia quindi addirittura si è spinto sin là il colonnello Giuliacci che molti ricorderanno per le previsioni su canale 5 poi dopo ha lasciato il post al figlio però meteogiuliacci.it ieri è stato ripreso poi tra l'altro quest'articolo anche da alcuni servizi meteo siti internet meteo specializzati insomma Giuliacci faceva un ragionamento interessante però insomma forse spingendosi un po' troppo in là ha parlato addirittura di possibilità di uregani ma insomma siamo in là naturalmente però questo per dire che sabato sarà una giornata davvero brutta dal punto di vista meteorologico andiamo adesso a leggere i giornali andiamo e cominciamo dal resto del Carlino ieri abbiamo lanciato questo appello leggendo il un altro quotidiano oggi lo facciamo di nuovo con la prima pagina del resto del Carlino di Fano vedete la fotografia del piccolo Federico con il babbo Vito fuori dal tribunale di Pesaro una foto d'archivio Federico lo abbiamo già detto ieri questo bambino sta peggiorando deve fare delle cure all'estero chi può lo aiuti questo è l'appello che lanciano i genitori del bambino curato con le infusioni c'è questa raccolta di fondi per curarsi all'estero e dunque siccome il prossimo 24 dicembre che è vigilia di Natale tutti quanti noi festeggeremo saremo felici e contenti ecco compirà 5 anni il piccolo Federico e allora ci sono le coordinate per aiutare la famiglia quindi per effettuare questi viaggi soprattutto questo ciclo di cure lo trovate scritto qua sul giornale di questa mattina lo pubblicheremo anche noi oggi il costo totale di questo trattamento se gira sui 30 mila euro a ciclo una cifra enorme che una normale famiglia fa chiaramente difficoltà ad affrontare per questo motivo che ci rivolgiamo a voi tutti chiedendovi di attivarvi direttamente o di inventarvi qualcosa per aiutarci a raccogliere dei fondi potrebbero contattare delle aziende di vostra conoscenza rappresentando nella necessità questa famiglia la conosciamo tutti ve l'abbiamo presentata anche noi in televisione più volte si può organizzare qualche evento stavamo dicendo no del Natale allora tutti questi organizzatori è tombole quant'altro ecco magari una piccola parte una piccola si potrebbe destinare a questa a questa causa ok allora i fanesi hanno il cuore grande sono un po così così però a volte però abbiamo il cuore hanno il cuore grande abbiamo il cuore grande siamo tutti i fanesi l'ex zuccherificio questo progetto che tra l'altro abbiamo presentato anche qui a Fano TV eccolo qua la regia Andrea Marcelli ci sta mostrando quelle che sono le due torri che c'erano un tempo che svettavano si vedevano da distante da lontano ecco c'è l'idea di riprenderle e di riportarle su questo è tutto il progetto il rendering che è stato realizzato e illustrato anche dall'assessore dei lavori pubblici Marco Paolini l'altra sera qui proprio nello studio del telegiornale che ne pensate non lo so che ne pensate di queste due torri che io ricordo che c'era un progetto un altro progetto erano sicuramente più accattivanti più belle questi due cilindri buttati lì così adesso non so se un po un rendering così così insomma niente di che buttato su però ecco ragioniamoci perché su queste cose insomma una volta che poi sono su bisognerà aspettare altre 200 anni prima di buttarle giù probabilmente quindi insomma bisognerà capire se vale la pena ributtare su due cilindri così oppure creare qualcosa di interessante anche perché spesso nelle città di mare andava di moda fare un grattacielo per ogni per ogni città di mare non so perché per quale motivo ma c'è stato un periodo negli anni che furono di buttare su questi grossi edifici queste grosse costruzioni che poi vedi il grattacielo di Rimini vedi quello di Civitanova che poi sono diventate delle brutture incredibili quindi insomma pensiamoci insomma ecco questo che voglio dire e magari fateci sapere la vostra comunque torniamo ai giornali grazie una piscina una superficie commerciale di 2500 metri l'assessore Paolini ha presentato i progetti per l'area vogliamo creare un'oasi libera dal traffico però circondata dai parcheggi andiamo sull'altra pagina sulla politica la politica la politica di Fano accordo in vista Cristian Fanesi può entrare in giunta Cristian Fanesi non è nessuno di questi due soggetti che il Carrino pubblica perché questo di Rosso è il segretario provinciale Gostoli mentre al suo fianco c'è il segretario cittadino Stefano Marcheggiani ieri c'è stata questa intesa intensa giornata e poi anche l'intesa immagino a fine serata di confronto tra le due anime del partito un braccio di ferro dice e scrive il giornale quindi Cristian Fanesi sicuramente entrerà e farà l'assessore probabilmente probabilmente gli verrà assegnato anche la delega che oggi di Marco Paolini la delega ai lavori pubblici mentre ancora è da capire ma lo avranno deciso chi siederà al posto di Renato Claudio Minardi come presidente del Consiglio Comunale ovviamente ci sono dei veti su Rosetta Fulvi non si capisce bene si stanno ecco il braccio di ferro si stanno scontrando c'è chi vorrebbe un giovane c'è chi scalcia e scalpita per Rosetta Fulvi invece si parla di separati e divorziati al centro pastorale diocesano di Via Roma si intitola Il Volto Misterioso del Padre l'appuntamento organizzato per sabato 10 ottobre alle 4 del pomeriggio al centro pastorale diocesano una riflessione portata qui a Fano da un gruppo della diocesi di Bergamo che appunto parla del cammino di accompagnamento spirituale di separati, divorziati e riaccompagnati andiamo invece sulle pagine interne, sulle pagine dell'entroterra del resto del Carlino a San Costanzo, necropoli Picena in strada Santa Lucia scoperte 50 nuove sepolture, procedono gli scavi finanziati dal comune sito archeologico si distingue per la posizione dei defunti rannicchiati sul fianco destro eccoli qua, una delle sepolture perfettamente conservate rinvenute nella necropoli di San Costanzo e a Orciano invece ieri c'è stato un vertice dopo la voragine nella strada si realizzerà una palizzata in cemento per proteggere l'area poi successivamente verrà ricostruita la strada svegliati di notte dai ladri, colpo in due appartamenti, siamo a Pesaro blizza la motorizzazione in strada dei cacciatori intrusione senza però bottino il direttore regionale Alessandro Caponetti dice entro l'anno installeremo telecramere in tutti gli uffici provinciali finora abbiamo avuto le guardie giurate poi l'ultima pagina del resto del Carlino sulla sanità Ceriscioli apre al privato e sull'ospedale incalza i sindaci ci dicano, quindi i sindaci sono seri per Fano, ricci per Pesaro ci dicano dove lo vogliono questo ospedale unico oppure decido io dove metterlo i soldi, dice poi Ceriscioli, li troviamo in regione non c'è nemmeno un foglio sull'ospedale unico ma non si può, dice, tornare indietro quindi ormai è deciso e quindi questo ospedale unico prima o poi si dovrà fare entro 300 giorni dobbiamo abbattere invece le liste d'attesa e cambierò la mentalità apriamo adesso il Corriere Adriatico il sindaco, siamo sulla pagina di Fano il sindaco si sbilancia voglio un giovane al mio fianco è uno scontro duro, quello che da lunghi mesi è in atto all'interno del Partito Democratico sulla scelta del candidato alla Presidenza del Consiglio Comunale al posto dell'attuale Renato Claudio Minardi torneranno a svettare le due torri simboli dell'ex zuccherificio inserite nel nuovo progetto dell'area presentato dall'assessore Marco Paolini nei 230.000 metri quadrati i volumi si disporranno a corte attorno ad uno spazio vuoto centrale la soluzione adottata consentirà di non demolire tutto quanto è stato costruito all'inizio degli anni 2000 la regione istituisca il centro cure palliative pediatriche il presidente marchigiano dell'associazione Maruzza incontra Marchigiani, lo spazio necessario è già disponibile dunque il presidente regionale Elmo Santini ha incontrato ieri il vice sindaco Marchigiani affinché la giunta fanese si faccia interprete nei confronti della regione Marche e dell'istanza di istituire a Fano da dove peraltro è partita questa iniziativa il centro cure palliative pediatriche già previsto da una delibera regionale tenendo presente che lo spazio richiesto è già a disposizione nell'ospedale Santa Croce e la fondazione Carifano ha già dato la sua disponibilità per l'attuazione del progetto stesso poi stop a nuovi inceneritori piano d'ambito per la gestione dei rifiuti incontro in commissione e poi l'addio come abbiamo già visto al comandante nella chiesa del Lido il funerale alle ore 15 a San Giuseppe al Porto poi parte il giro dei sapori e un fulmine invece un fulmine in stazione ha mandato in tilt i treni per ore la viabilità dei treni la pioggia ha rallentato ieri la viabilità anche quella su ruote anche la viabilità ordinaria cittadina poi dalla pagina di Fano e Valle del Cesano ignorano anche la normativa siamo a Pergola lavori alla scuola elementare Sabatucci replica alle accuse della minoranza poi a Cartoceto Cartoceto si chiude la ferita alle mura la giunta approva il progetto esecutivo del secondo stralcio lungo via Cavour e piazza Garibaldi questa comporterà una spesa di 330 mila euro per un importo finale complessivo di 880 mila e anche qui sul Corriere si parla dei tesori nascosti a San Costanzo questa necropoli dalla quale emergono 50 sepolture la particolarità l'abbiamo già detto l'abbiamo già visto vedete sono tutti sistemati appoggiati su un fianco il fianco destro ok l'altra pagina del Corriere da Fossombrone primario in ferie niente radiografie manca la sostituzione pazienti rispediti a casa aperta la nuova dialisi ancora dal Corriere di Pesaro questa volta nuovo dragaggio per l'arrivo degli yacht la richiesta dei titolari del cantiere Rossini abbiamo necessità di avere 5 metri di profondità altrimenti gli yacht si incagliano avviate le misurazioni poi chiederemo le autorizzazioni alla capitaneria e al provveditorato adesso andiamo sul messaggero anche qui in apertura come fa spesso tutti i giorni direi quasi sanità sul messaggero in primo piano Ceriscioli apre ai privati l'obiettivo è abbattere il costo del personale e per il sito di Marche Nord quindi dove verrà realizzato l'ospedale unico pressing sui sindaci all'ospedale di Fossombrone invece il radiologo è in ferie e dunque saltano le ecografie protesta dei 5 stelle tutti in fila per Fiorello invece al Rossini questa sera si replica Fiorello in giro per la città di Pesaro tra selfie tra Twitter filmati eccetera eccetera mentre la cronaca sempre in prima pagina sul messaggero giovane muore dopo un'agonia di 9 giorni è deceduto il negoziante di Marotta che è precipitato dal balcone non ce l'ha fatta questo giovane negoziante di 29 anni di Marotta precipitato dal balcone di casa e che dall'altra settimana era ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva all'ospedale di Torretti di Ancone il ragazzo che lavorava a Mondolfo e abitava con i genitori in un condominio di Viale delle Regioni è deceduto per le ferite riportate nel violento impatto con il suolo fuggi fuggi arriva la polizia in via Cavour c'è chi scappa saltando i cancelli gridava al ladro ma era un equivoco nella notte invece una serie di furti questa volta veri arrestato mentre tenta di rubare all'interno di una azienda adesso andiamo sulla pagina di Pesaro invece del messaggero Ruspe in via Mancini tra i residenti stremati dalla strada trappola lavori per livellare l'asfalto e cancellare buche e avvallamenti ma rimuovere le radici si rivela più complicato del previsto e per chiudere anzi no la penultima pagina andiamo su sempre su quella di Pesaro Urbino anche qui vedete la cronaca di questo fulmine che è caduto su una centralina proprio beccato in pieno una centralina alla stazione di Fano bloccati i treni dei pendolari una scarica ieri mattina ha colpito una cabina elettrica mandando in tilt la linea ferroviaria sulla zona stava imperversando ieri mattina alle 8 un violento temporale il guasto ha interessato 27 convogli della tratta adriatica chiudiamo con la pagina di Fano l'ex zuccherificio rinascerà all'ombra delle due torri pronto il nuovo progetto per l'area dopo la variante bocciata in consiglio tornerebbero anche le strutture cilindriche demolite durante la bonifica ecco su questo appunto magari chiediamo proprio lo chiedo qui un parere dei cittadini un parere dei telespettatori fatecelo sapere che cosa ne pensate se vi piace l'idea che possano essere ricostruite oppure no Fano Ateneo apre l'anno accademico il sindaco una ricchezza per la città la segreteria invece del PD trova la quadra la proposta è il via libera Rosetta Fulvi presidente del consiglio e Cristian Fanesi settimo assessore per quanto riguarda il dragaggio del porto del porto di Fano invece è stato provvidenziale ma dicono gli operatori non bisogna adesso non bisogna adesso fermarsi questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa prima di salutarvi però voglio andare un attimo sul nostro sito internet eccolo qua l'indirizzo è occhioalanotizia.it perché naturalmente ci sono tutte le notizie sempre aggiornate ce n'è una per esempio che ha aggiornato la nostra redazione che stamattina è già alle 7 a proposito di biciclette eccola qua questa bicicletta è qui da oltre un anno e c'è la segnalazione di un nostro telespettatore se volete occhiolanotizia.it oppure la nostra applicazione che al momento è soltanto sul market di Google Play però ieri abbiamo avuto buone notizie anche dalla Apple direttamente stiamo lavorando per arrivare anche su tutti gli iPhone e tutti i dispositivi della Apple quindi la nostra applicazione Occhio la Notizia prestissimo sarà disponibile anche per coloro che adorano la mela morsicata è tutto grazie e buona giornata Grazie a tutti